Ancora un colpo messo a segno alla Nicole Preziosi, il secondo in appena 40 giorni. Era infatti il 12 aprile scorso quando l'azienda era stata presa ad assalto da una banda di ladri che in una manciata di minuti erano riusciti a portare via 300 kg d'argento. Questa notte una nuova incursione con modalità del tutto simili. L'allarme è scattato attorno alle 2.30 quando i malviventi sono riusciti a sfondare con un camioncino rubato anche questa volta a città di Castello il portone blindato d'accesso. In appena 4 minuti hanno fatto razzia di argento e leghi utilizzate per lavorare il metallo prezioso. Non sarebbero invece state toccate le casse forti. Anche in questo caso la banda per guadagnarsi la fuga ha utilizzato due furgoni per bloccare la strada nel tentativo di ostacolare l'intervento della vigilanza privata delle forze dell'ordine. La stazione dei Carabinieri si trova solamente a qualche centinaio di metri dall'azienda presa ad assalto. Sono infatti arrivati sul posto in soli 5 minuti ma della banda non c'era più nessuna traccia. I ladri sarebbero scappati a bordo di un'utilitaria scura anch'essa rubata. Al vaglio degli investigatori adesso le immagini di video e sorveglianza della ditta e quelle presenti nella zona. In azione almeno 4-5 banditi tutti a volto travisato. Non è escluso che dietro a due colpi possa esserci la stessa mano.